La quindicesima e ultima giornata prima del Giro di Boa del campionato di prima categoria Girone H vede il Corpolò scendere in campo contro il Gambettola. Due squadre distanti in classifica e con due obiettivi differenti. I giallorossi vogliono collezionare qualche vittoria per chiudere al meglio il campionato e i biancoverdi invece vogliono posizionarsi tra i primi posti in classifica. Le squadre scendono in campo con le seguenti formazioni. Il Corpolò schiera Semprini tra i pali, Castellani, Giannoni, Strologo, De Paoli, Antonelli, Aissawi, Mutbassim, Gambuti, D'Amato, Magnani. Il Gambetto alla schiera Parentelli, Zampa, Cola, Bacchini, D'Altri, Teodori, Savadori, Foschi, Semproli, Magnani, Castellani. La cronaca Il primo tempo è povero di azioni e nessuna delle due squadre tira fuori il carattere. Passano quattro minuti dall'inizio del gioco e Castellani batte un calcio d'angolo. Foschi intercetta il tiro e cerca la porta ma il suo tiro non impensierisce Semprini che para facile. Al diciassettesimo Semprini non blocca la sfera lanciata da un giocatore avversario. Il capitano Magnani recupera la palla ma colpisce male e spreca una buona occasione. Al trentaquattresimo D'Amato si porta davanti all'area di rigore ma viene buttato a terra con un fallo avversario conquistando così un tiro di punizione. Il capitano si incarica della battuta ma la sfera colpisce alla barriera ospite. Al quarantasettesimo altra punizione in favore dei padroni di casa. Aissawi si incarica della battuta, D'Amato intercette il pallone ma il suo tiro finisce ben oltre la traversa. Si chiude quindi a reti inviolate la prima frazione di gioco. Al decimo minuto della ripresa Bacchini crossa per Semproli ma l'estremo difensore casalingo pare il tiro e butta la sfera a lato. Al diciottesimo minuto il Corpolò si porta in vantaggio. Antonelli si fa trovare pronto a centrocampo. Arriva la sfera che colpisce con decisione e sicuramente accompagnato da un pizzico di fortuna il suo tiro passa sopra la testa del portiere ospite e insacca la rete per l'1-0. Passano cinque minuti e gli ospiti riportano l'incontro in equilibrio. Calcio d'angolo battuto da Zampa, Foschi interviene e con un tiro da fuori area supera la difesa casalinga segnando il gol dell'1-1. Al ventinovesimo minuto il Gambetto la resta in dieci uomini a seguito dell'espulsione per doppia munizione proprio di Foschi. Una decisione esagerata e non condivisa che ha cambiato il clima dell'incontro. Dopo tre minuti infatti anche il Corpolò perde un uomo. Castellani viene buttato fuori con un rosso diretto per un fallo neanche da cartellino giallo. In questo modo il direttore Donato di Bologna ha cercato di pareggiare i conti con l'espulsione precedente senza rendersi conto che ormai aveva perso il controllo della situazione. Al trentanovesimo Castellani gioca l'ultima azione rilevante e decisiva del match. Zampa crossa al centro, Castellani riesce a liberarsi dal difensore e segna il gol del 2-1. Il giocatore esulta togliendosi la maglia e scatta l'inevitabile cartellino giallo per lui. Quattro minuti di recupero non bastano a cambiare risultato e il Corpolò esce sconfitto da un incontro in cui ha lottato ma non ha mostrato abbastanza carattere. Domenica prossima gli aspetta il derby in casa con il Verrucchio. I giocatori devono tirar fuori le unghie e iniziare il girone di ritorno con il piede giusto. Un primo tempo un po' spento, poi in secondo tempo vi siete ripresi, avete tirato fuori il carattere e alla fine si è visto il risultato. Sì, direi che hai letto bene la partita. Un primo tempo equilibrato, non è facile venire in un campo così piccolo. Loro venivano da un gran momento. Noi avevamo perso in casa la domenica prima, però diciamo che noi fuori casa riusciamo a dare forse il meglio. e dopo come c'era messa il secondo tempo che è stato fatto un gol, non dico della domenica ma dell'anno, da parte loro gli faccio i complimenti, se l'ha cercato. Però vi è stata una gran reazione dei ragazzi e secondo me alla fine il risultato forse è stato meritato. Un campionato un pochino altalenante quest'anno per il Gambetto. Ne vincete due, ne perdete una, pareggiate un'altra. Certo, un po' altalenante. Purtroppo abbiamo dei ragazzi giovani che vengono anche dall'Uniorres quindi fanno presto a fare la prestazione come magari la partita dopo a incappare in una prestazione no. Però diciamo che anche domenica abbiamo perso in casa con Saludecio senza che loro avessero creato niente di particolare con un tiro su punizione. Noi purtroppo abbiamo avuto 5-6 pallone, la buttiamo dentro però diciamo che non riusciamo a dare una continuità ai nostri risultati. Facciamo meglio fuori che in casa. Purtroppo questa è un'andica che dobbiamo migliorare se vogliamo fare qualcosa di buono. Per quanto riguarda gli episodi, un pochino dubbi di fallo piuttosto che diverse punizioni magari che non sono state fischiate dall'arbitro a favore di una piuttosto che dell'altra squadra. Diciamo che il direttore di gara non ha fatto grandi errori perché non ci sono stati forse degli episodi però sul fallo delle due espulsioni sia il nostro che il loro sicuramente non c'erano nessuno dei due però forse ha fatto pareggiato quello che ha sbagliato da noi e ha pareggiato con loro. Diciamo che lì tutti e due i ragazzi non erano da buttare fuori sicuramente. È un modo un po' particolare per pareggiare i conti. Probabilmente ha perso il controllo della partita. Secondo me ci ha reso conto forse che aveva fatto lo sbaglio sul nostro giocatore a dargli la seconda munizione quando aveva preso il pallone e loro con un'espulsione diretta. Sicuramente per me si è voluto mettere un po' a pari vedendo il primo episodio. Siete comunque sesti in classifica. Domenica prossima, prima giornata di ritorno del campionato. Giocate contro lo Scott 2M, quindi l'ultima della classe. L'andata era finita 2-2. Diciamo che queste partite qui, a parte il San Termete forse che riesce a fare una classifica a sé però ogni tanto anche loro vedo che incepano in qualche risultato. Però diciamo che è un campionato molto equilibrato. La prima può perdere con l'ultima, la terza va a vincere in casa. Non è un campionato stabile e lineare. Ci sono molti risultati abbastanza strani. Quindi è un campionato dove noi cerchiamo di fare il meglio possibile. Speriamo di infilare qualche partita di continuo e poi magari trovarci in posizioni migliori. Una partita sofferta, un primo tempo spento da parte di entrambe le squadre e poi secondo tempo il vostro vantaggio e poi due gol avversari. Un primo tempo molto equilibrato. Nessuno dei due ha fatto meglio dell'altro ma ce la siamo giocata, ce la siamo. Finito 0-0 e andava bene così. Secondo tempo molto battagliero. Loro sono stati più cinici di noi e hanno vinto. Però l'espulsione del nostro giocatore era inesistente e questa non va bene. Probabilmente anche l'altra espulsione e la doppia munizione forse è stata un pochino esagerata. C'era fallo ma forse è esagerato l'arbitro. La vostra sicuramente era in esistenza e l'espulsione del giocatore del Corpolò. Quindi su questo andiamo d'accordo. Però questi episodi e dell'arbitro succedono tutte le domeniche e c'è qualcosa che non va. Che cosa succede? No, beh, non è che sia colpa dell'arbitro. Ho detto solo che a un certo punto la loro espulsione per me era giustissima. Anzi, doppio fallo, secondo fallo ancora più del primo perché era intervento da dietro. Non ho capito la nostra espulsione. Naturalmente loro sono stati i più bravi di noi perché hanno rimediato quel gol. Hanno rimediato ma non credo che la partita loro sia stata migliore della nostra. Quindi probabilmente un pareggio ci stava bene. Ci rimbocchiamo le maniche perché poi domenica abbiamo un bel derby e adesso dobbiamo pensare a domenica. Ormai questa è andata. Esatto, comunque venite da tre partite in cui avete raccolto tre risultati positivi. Due vittorie, un pareggio con la prima della classe. Quindi la prima giornata di ritorno del campionato, prima della pausa natalizia, è arrivato, c'è il verucchio, quindi i derby come preparate, con uno spirito diverso rispetto a quello di oggi o no? Veramente questa settimana i ragazzi si erano preparati benissimo. Quindi la settimana gli allenamenti, anche da parte mia, da parte del mister, si erano impegnati tantissimi ed era andato veramente bene. Non ho capito come mai oggi non eravamo al massimo quando siamo entrati in campo. Forse la tensione e quant'altro. Sicuramente tutte le partite le prepariamo bene, sicuramente la prepareremo bene anche domenica, anche perché domenica è una partita importante, ma tutte le partite sono importanti perché questo campionato quest'anno è difficile e dobbiamo sempre arrivare al top la domenica. Purtroppo tante volte non ci arriviamo, anche perché secondo me non riusciamo a dare quello che possiamo dare.